Senti come fa, senti come fa, senti come fa, senti come fa, io lo so, tu lo sai, lui lo sa, lui, Francesco Zappala, mani, 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 un movimento che è un tormento, è una tribù che balla, è una tribù che balla, soffocati dal cedetto, movimento che è un tormento, chiudi gli occhi, comincia il sogno, energia positiva, non fatevi cogliere da questi dubbi, bisogna lavorare, non ballare, in fuori orario, magari al sabato sera andare allo 06, Francesco Zappala Grazie a tutti 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 Grazie a tutti